La candidatura di Minniti non ci dice nulla. Adesso c'è il panorama delle primarie candidati. Sono molto contento che parta il congresso, che mi auguro che si faccia rapidamente, certamente il sostegno a Zingaretti, ma certamente il grande apprezzamento per quello che rappresenta Marco Minniti e altri candidati, se ce ne saranno, vedremo. Io farò il tifo per il PD, comunque non è che farò il tifoso di questo o di quello. Grazie.